è entrato anche il presidente Bianchi direi che possiamo che possiamo iniziare buon pomeriggio a tutti e questo è il terzo appuntamento del programma digital innovation shortcuts insomma chi di voi ha partecipato agli altri incontri sa che si tratta di un di un progetto realizzato con le sezioni T la sezione comunicazioni e la piccola industria per realizzare delle delle pillole dei webinar dedicate alla trasformazione digitale su diverse su diversi verticale aziendali i primi due che abbiamo già realizzato erano dedicati a processi interni e risorse umane e cyber security quello di oggi è dedicato al settore delle vendite del customer care eh abbiamo dato qualche minuto per far collegare gli imprenditori e adesso per insomma facciamo dei diamo la parola alla dottoressa Carli presidente della sezione T per un saluto di questa giornata e al presidente Francesco D'Angelo per il benvenuto anche da parte sua allora buongiorno a tutti io saluto in particolare gli amici che con me hanno percorso questo questo appuntamento interessante quindi saluto Francesco D'Angelo presidente della sezione comunicazioni saluto in primis anche il presidente della piccola Fausto eh che hanno creduto tutti insieme abbiamo tutti insieme spinto perché si eh prendesse forma questo progetto che in qualche modo come diceva la nostra buona Lorenza eh ci fa un po' toccare per mano quelli che sono gli use case della della trasformazione digitale ecco noi volevamo l'obiettivo di questo progetto era proprio quello di poter dimostrare in termini molto semplici facili con un linguaggio comune eh come la tecnologia possa fare da casi di uso anche in tanti settori e e quindi eh aiutare anche delle aziende piccole, medie, grandi, forse più piccole e medie a a trasformarsi. Quello di oggi appunto è sul tema vendite e customer care quindi io ringrazio anche le aziende che si sono in qualche modo messe a disposizione per questo progetto perché a loro va eh la nostra come dire il nostro la nostra attenzione a dire a cercare di far capire in modo semplice come come poter esporre questi casi. Io volevo dire due parole su quello che è la la digitalizzazione nell'ambito della vendita e con la clientela. Allora questo periodo sicuramente ci ha fatto capire quanto e come eh le eh gli acquisti online e tutto ciò che è legato a questo a questo grande tema delle piattaforme di commerce sia diventato un un tema importantissimo non solo per i consumatori ma anche per le imprese che poi vogliono essere sui mercati. Quindi non solamente la vendita come dire vera e propria che eh la sfida quindi dei dei negozi tradizionali ma che la grande sfida poi di mettersi in gioco su questi canali digitali che ci portano oltro oceano, ci portano in Europa, ci portano oltro oceano. Noi abbiamo una grandissima retratezza per quanto riguarda la 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 cultura digitale in Italia. Francesco ricorda sempre il il tema del del DAISI, questo Digital Eh Economy and Society Index che ci pone a una effettivamente a un livello molto basso, venticinquesimo posto in Europa, però il commercio digitale è assolutamente in forte in forte fermento. Leggevo appunto recentemente da questa ricerca NEPCOM che è stata fatta per per Ambrosetti che oggi ci sono 678.000 imprese che lavorano in questo senso con oltre 290.000 lavoratori, tra venditori, piattaforme online e operatori di servizio. Quindi un numero assolutamente importante di cui dobbiamo tener conto perché come forse eh altre nostre aziende che presenteranno dopo è in crescita esponenziale e lo sarà sicuramente per il prossimo futuro. Eh che cosa vorrei un po' evidenziare nei servizi importanti che poi queste imprese possono possono mettere a disposizione che non c'è solamente il tema della della piattaforma ma ci sono i servizi connessi quindi pensiamo a alla progettazione e lo sviluppo anche per quelle che sono le filiere per esempio le filiere dei dei produttori eh il tema della gestione della supply chain il tema delle relazioni con con gli utenti quindi tutto il tema del customer care il tema della formazione della formazione dei produttori per lo sviluppo delle attività digitali quindi intorno al mondo eh diciamo delle vere e proprie eh piattaforme vuota anche tutto un altro mondo che va assolutamente considerato laddove l'azienda poi si vuole mettere sul mercato. Proprio recentemente eh avete letto che anche il ministro Di Maio eh ha presentato il il rapporto ICE eh per quanto riguarda il tema dell'export e ovviamente ha sottolineato come la digitalizzazione e lo sviluppo del dell'e-commerce sono i pilastri per sviluppare il Made in Italy e quindi punterà appuntato e punterà sempre di più su questi due pilastri per investire poi quelle che sono anche le risorse che su questo questo tema anche il PNNR mettere lettera in campo. Quindi noi eh contiamo anche come servizi innovativi di poter fornire il nostro apporto l'abbiamo l'abbiamo come dire messo sul piatto sinora perché crediamo fortemente che non solo le piattaforme eh diciamo chiamiamola così gatekeeper le chiamano nel nostro nel nostro ambito però sono quelle piattaforme eh oltreo c'erano che sono così importanti e sicuramente fondamentali per lo sviluppo di tutte le nostre dei nostri servizi digitali e quindi anche in primis le commerce ma possa assolutamente essere affiancata da una piattaforma una super piattaforma che può essere anche europea così come parliamo di cloud europeo proviamo a parlare a pensare anche a una nostra piattaforma europea che possa valorizzare quelli che sono i territori i territori nostri italiani fatti di eccellenze impedibili che scopriamo ogni giorno di più non solo di prodotti alimentari ma di tanti prodotti del Made in Italy che forse queste grandissime piattaforme neanche sentono e percepiscono e quindi forse riescono anche a vendere molto male. Quindi questo è un nostro forte convincimento che stiamo portando su vari tavoli e speriamo che che anche l'Europa in questo ci diano a mano. Quindi buon lavoro eh grazie io sono qui per ascoltare tutti ehm e anche alle prossime edizioni. Vi aspettiamo naturalmente anche dopo l'estate per gli altri eh webinar che metteremo in campo. Grazie. Grazie presidente noi io a questo punto allora faccio fare anche un saluto al presidente D'Angelo e poi iniziamo. Eccomi mi sentite? Sì. Buon pomeriggio un saluto a tutti alle aziende della sezione comunicazioni della sezione IT che hanno partecipato alla costruzione di questo ulteriore workshop che eh diceva Vittoria essere il terzo e un saluto anche al presidente Bianchi che diciamo con grande forza ci sta accompagnando in questo percorso verso il digitale. E allora io eh per questo terzo evento devo dire che eh sono tutti molto interessanti e molto attuali. Questo in particolare eh è un tema a me molto vicino perché io mi occupo di vendite da tanti anni e il mondo delle vendite e della relazione con il cliente ha fatto diversi salti di paradigma eh negli ultimi cinque sei anni in particolare lo ha fatto recentemente come ricordava Vittoria. Eh tutti sappiamo che c'è un nesso evidente, chiaro, scontato, diretto tra le vendite e la relazione con i clienti. Un cliente che è soddisfatto della mia azienda sicuramente sarà più propenso a fare nuovi acquisti in futuro e quindi è sicuramente un cliente cosiddetto fidelizzato. Si usa spesso questo questo termine. Quello che però continua a essere assolutamente poco chiaro, poco assodato ed è sicuramente oggetto delle indagini che ogni azienda dovrebbe compiere e quale sia la modalità più efficace con cui gestire la relazione con il cliente. Adesso Vittoria ricordava il momento della pandemia, il momento in cui abbiamo dovuto fare a meno del contatto fisico che per qualcuno che gestiva la relazione del cliente esclusivamente attraverso incontri fisici ha significato una grande discontinuità. Però è vero che in un contesto come quello attuale, sempre più digitalizzato e caratterizzato dalla presenza di numerosissimi e diversi tra loro touch point, è chiaro che questo è il vero tema del momento. Ed è un tema molto complesso ed è un tema che riguarda sia il mercato B2B ma anche il mercato B2C, addirittura nel mondo B2C parliamo spesso di milioni di consumatori, per cui è chiaro che capire quale debba essere la modalità più efficace per gestire la relazione del cliente in tutte le fasi di contatto col cliente è sicuramente la cosa più complessa. Ed è per questo che recentemente, da qualche anno ma comunque recentemente, la gestione delle relazioni con la clientela ha assunto certamente una valenza di leva strategica. È un tema che deve essere all'attenzione di tutta l'azienda in quanto deve far parte dei lineamenti strategici di investimento di qualsiasi azienda, piccola o media o grande che sia. Ora è chiaro che su questo aspetto la tecnologia ci viene in aiuto. Mi riferisco a alcune tecnologie in particolari, il CRM, l'e-commerce già citato da Vittoria, tutto il mondo dei big data e dell'intelligenza artificiale. Queste sono tutte tecnologie che possono aiutare ogni azienda a costruire una strategia di successo che è basata sulla profonda conoscenza del cliente, dei suoi bisogni, è in grado di anticipare le esigenze, di indirizzarle, di far sì che questa azienda possa nella relazione col cliente fornire risposte tempestive in tutte le fasi del ciclo di relazione con questo stesso cliente. Però qua poi viene secondo me il tema più interessante. È chiaro che una volta che tu utilizzi queste tecnologie per indagare con la massima profondità tutte quelle che sono le esigenze e le evidenze nella relazione con i tuoi clienti, poi tu devi essere comunque in grado di soddisfarle. Cioè se poi viene fuori che il cliente ha bisogno di una mela a tre colori, la mia azienda deve essere capace di produrre una mela a tre colori. E quindi che cosa significa? Che questo mondo della strategia che io applico nella relazione con i clienti è importante, ma è importante anche che questa indagine che io vado a compiere possa mettermi in condizioni di alterare tutto il ciclo produttivo dell'azienda. In altre parole, dall'indagine della relazione con i miei clienti io devo essere capace di modificare del tutto la linea produttiva della mia azienda, addirittura diversificare quella che è la proposizione commerciale piuttosto che il prodotto stesso che la mia azienda propone sul mercato. E quindi ancora di più è un tema assolutamente di rilevanza strategica. Io cito un altro rapporto in aggiunta ai dati importanti che citava Vittoria, che è un recente studio di Banca IFIS condotto sulle piccole e medie imprese italiane. Si parla di una crescente adozione delle tecnologie 4.0, ma si dice anche che lo scenario con riferimento alle tecnologie specifiche per la gestione della relazione con i clienti non è particolarmente erosio. Soltanto l'8% delle piccole e medie imprese utilizza i big data e il machine learning, che ormai sono insomma con tutto il mondo dell'intelligenza artificiale, le tecnologie che in questo momento possono effettivamente aiutarci a diversificare. Ecco, solo l'8% utilizza oggi queste tecnologie. E per quel che riguarda invece i sistemi di Customer Relationship Management, visto che il CRM è una tecnologia molto più antica, poi oggi si avvale di tecnologie moderne, ma concettualmente è un tema molto più diciamo tradizionale, però soltanto il 29% delle piccole e medie imprese lo impiega. Allora, le motivazioni sono sempre le stesse e quindi evito di ribatterle perché lo diciamo tutte le volte. Eh dimensioni limitate dell'azienda, accesso scarso a capacità finanziaria, infrastrutture tecnologiche non adeguate, ma soprattutto mancanza di cultura, eccetera eccetera. Però questo è il motivo per cui alla fine con il Presidente Bianchi, con Vittoria, ma soprattutto con tutte le aziende delle nostre sezioni abbiamo poi alla fine progettato questo percorso, proprio perché un'industria con la sua capacità di fare associativismo può sicuramente dare un contributo per avvicinare chi non lo fosse già a queste tecnologie e alla modalità per utilizzarle con successo. Ringrazio ancora tutti e vi lascio la parola. Grazie Presidente, a questo punto possiamo possiamo iniziare i lavori di questo di questo terzo appuntamento. Do la la parola per per farci fare un framework, quindi una cornice sul su questa importante tematica appunto della trasformazione digitale nel settore vendite e relazioni con la pientela al nostro ormai fedele Maurizio Giraudo che ci accompagna ormai in tutti questi appuntamenti. A te la parola Maurizio, grazie. Grazie, grazie Lorenza e grazie ai Presidenti per l'introduzione fatta perché eh rappresenta un trampolino ideale per quello che abbiamo preparato per questo incontro. confermo e non posso che copiare le le parole dei presidenti nel dire che eh rappresenta un momento centrale in questo percorso di incontri che abbiamo pensato per voi imprenditori in quanto andiamo a toccare il punto di contatto delle vostre aziende con la vostra clientela. Eh mai tema fu più caldo come questo in periodo di pandemia. Se vi ricordate il primissimo incontro in cui abbiamo introdotto eh questo percorso abbiamo visto come il contesto del mercato di riferimento sia drammaticamente cambiato per cui come ci ha detto il presidente Francesco D'Angelo poco fa il paradigma è radicalmente diverso e quindi eh come Lewis Business School abbiamo voluto prepararvi eh un pochino di di teoria che eh come al solito però vuole essere sempre molto concreta molto molto vicina alle eh vostre esigenze o quelle che crediamo essere vostre esigenze e essere il eh modo migliore di introdurre i tre business case di questa giornata. Eh avremo Guido Lucarelli di B2X così come eh Francesco Barletta ritroviamo con piacere anche qui di persona di Win3 e Maria Vittoria Crispino di Team eh che ci presenteranno delle testimonianze emblematiche. Eh mi preme ora però dare la parola alla collega Daniela Biscarini che eh come me è professore aggiunto di Lewis Business School eh si occupa da sempre di temi di marketing marketing digitale e in questo caso con particolare attenzione a alle vendite alle vendite online alla relazione con con i propri clienti. Eh immagino siate tutti in grado di vedere le le slide che stiamo proiettando non mi resta che passare la parola ehm a Daniela. Ci sei Daniela? Sì ci sono. Buongiorno a tutti. Grazie della parola. Eh un saluto a tutti in particolare ad alcuni ex colleghi che oggi sono collegati. Mi fa molto piacere avere l'occasione di poterli salutare. Allora eh come dicevate nelle nelle premesse eh facciamo un po' di diciamo di di passi in quello che è successo negli ultimi anni che ha subito eh sicuramente una grandissima accelerazione durante il covid. Eh molti di noi eh hanno studiato ahimè ormai parecchi anni fa eh una teoria del marketing che si poggiava su una sulle 4P eh le 4P che andavano a identificare quali erano le leve su quale avremmo dovuto lavorare se ci fossimo appunto occupati di eh vendere un prodotto e di ottenerne dei ricavi. Quindi qual è il prodotto barra servizi? Quali sono le distribuzioni ideali per questo prodotto? Qual è la promozione? E qual è il prezzo giusto? Queste 4P sono diventate ormai ai miei storia vecchia eh nel senso che eh nel tempo c'è stata una prima evoluzione diciamo forse una decina di anni fa in cui l'attenzione si è spostata il non si guarda più il prodotto come oggetto su cui creare un bisogno ma si guarda direttamente il bisogno. A noi è stato insegnato che il bisogno si può anche creare nei clienti qualora non ci fosse grazie al marketing. In realtà la consapevolezza e anche il proliferare di prodotti ha determinato invece che si tornasse a guardare il reale bisogno dei clienti quindi il cliente al centro della proposizione che la distribuzione anche qui non fosse più una funzione di una mia analisi di mercato di eh diciamo ottimizzazione ma che fosse la convenience cioè che fosse sempre il cliente a scegliere quale fosse il posto migliore dove acquistare quel determinato eh prodotto o servizio una comunicazione commerciale che sia chiaramente potenziata con il potenziamento e lo sviluppo di media anche media nuovi e da un'ottica di prezzo che è un prezzo che si poteva imporre quando addirittura ero io se invece citaro un bisogno diventava un tema di costo quindi l'aumento della concorrenza portava al centro di nuovo non un prezzo volontario ma diciamo la sostenibilità di un costo del digitale abbiamo un ulteriore passaggio siamo passati dalle 4c alle 4e perché perché oggi non si guarda più il servizio non si guarda più il cliente ma si guarda l'esperienza un cliente che acquista oggi soprattutto su canali digitali si aspetta di vivere un'esperienza un'esperienza che passa per le vendite che passa per il customer care che passa per il suo non è più l'acquisto di un servizio che lo porta poi a raccomandare e a diventare fedele a quel prodotto servizio il posto e la distribuzione non è più un tema mi aspetto di poter comprare ovunque e in qualsiasi momento quindi per me la distribuzione non è più un tema di convenienza di comunità perché deve essere vicino a casa ma deve essere direttamente a casa mia la promozione è diventata evangelismo le persone diventano fan di determinati processi di determinati esperienze di determinati prodotti e servizi sono loro che addirittura poi una comunicazione e poi il prezzo in realtà o il costo diventa poi uno scambio cioè io vivo il diciamo quello che tu mi chiedi in funzione degli elementi che ho raccontato fino adesso quindi crea poi alla fine la mia valorizzazione di quell'esperienza e quindi la mia eh diciamo disponibilità a pagare Maurizio se andiamo alla successiva ok quindi qual è il ciclo di vita di un cliente eh e quindi il suo customer giorni rispetto a un'esperienza che a questo punto è digitale allora c'è una prima fase di eh di conoscibilità di conoscenza di un prodotto e servizio questo eh diremo poi è legato a una diciamo eh quasi ancora non consapevolissima esigenza del cliente che inizia a guardarsi intorno perché sa che ha qualche o bisogno o problema da risolvere e quindi inizia a cercare e nel web presumibilmente informazioni le fonti sono l'online advertising le search di google i social media piano piano acquisisce un po' più di consapevolezza e a quel punto chiederà un approfondimento e vedremo quali sono gli strumenti che gli consentiranno di approfondire qual è il suo bisogno e quali sono le aziende i prodotti i servizi offerti che soddisfano questa sua esigenza e saranno le stesse aziende a dover offrire una risposta a un interrogativo che ancora neanche è chiaro a quel punto c'è una presa di 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 consapevolezza e una quindi disponibilità all'azione che arriverà a una decisione decisione che si aspetta per lo più di essere chiusa nel mondo in cui io sto prendendo un'informazione e vedremo che questa è una cosa che si applica non solo alle aziende B2C ma anche alle aziende B2B e poi c'è la fase successiva la fase successiva che è un po' come stava ricordando prima Francesco e prima di lui insomma gli altri interventi che è tutto il customer care il CRM la capacità che io a quel punto ho di fidelizzare quel cliente non più con degli strumenti tradizionali ma con degli strumenti che iniziano non solo a risolvere a fidelizzare il cliente stesso ma anche a raccogliere informazioni su come fare upselling cross selling e quindi come io posso sfruttare quel contatto quindi eh raccolgo quale sono le difficoltà e le sfide che hanno generato una ricerca di informazioni e qual è quindi il percorso di acquisto aggiungo come azienda le fonti di informazione che il cliente sta cercando facendogli acquisire anche la consapevolezza che io le ha risposte alle sue domande racconto chi è la mia azienda e perché l'azienda giusta per trovare delle risposte do la una massima fluidità di contatto nei miei confronti e poi dopo l'acquisto arrivando all'acquisto inizio a tenere legato al cliente se non arrivo all'acquisto comunque so che quel cliente ha bisogno di determinate cose e quindi continuo a tracciare il funnel eh Maurizio se andiamo avanti ok detto questo che cosa vuol dire lavorare sul digitale innanzitutto bisogna ehm subito chiarire che il digitale per di definizione è un imbuto quindi ha una bocca molto grande nel quale è molto diciamo importante trovare uno spazio di comunicazione più diciamo le esigenze sono evidenti e più si dice che ci sia c'è rumore ci saranno molte aziende a parlare di questo da lì piano piano si deve guidare il cliente fino a generare dei lead lead è una qualificazione della sua esigenza ho capito qual è il mio problema ho capito quale possono essere le risposte quindi sono un cliente profilato e è un'esigenza qualificata fino a trasformare questo lead in parte in clienti veri e propri quindi la prima fase è una consapevolezza ricerco argomenti di interesse ho un problema non ho chiarissimo come si risolve questo problema ho quindi come azienda una necessità di attrarre traffico sul sito come devo fare lavoro sui motori di ricerca inizio a indicizzare tutte le parole che sono collegate con la competenza della mia azienda col posizionamento e con la mia promessa e una volta che mi sono posizionata lì inizio a fornire è il mio investimento nei confronti del cliente inizio a tirarlo con delle informazioni molto semplici i blog le infografiche come fare le cose che poi alla fine è stato il successo di youtube quindi inizio a fornire gratuitamente una serie di informazioni sul web queste informazioni saranno ciò che il cliente troverà ricercando le sue parole chiave a quel punto inizio a essere presente nella pletora di aziende che offrono soluzioni da questa consapevolezza in cui ho aiutato il cliente a capire qual è il suo problema e quali sono le possibili soluzioni a capire che ci sono una serie di aziende che offrono possibili soluzioni passo la considerazione che vuol dire ricerco cerco di costruire la fiducia del cliente e quindi inizio ad approfondire contenuti che metto sul web quindi passo al magari al webinar a parlare dei casi di successo a fornire guide pratiche siamo ancora in una fase di diciamo riduzione del numero dei clienti andandoli a profilare ulteriormente ma fornendo gratuitamente tutto ciò che serve al cliente per arrivare alla consapevolezza che la vostra azienda ne sa più di altri perché perché la vostra storia racconta che perché avete già gestito altre situazioni su mille alla sua e quindi la conseguenza è queste sono tutte cose che forse in passato venivano fatte con incontri sui clienti presentazioni eccetera oggi potete dovete non avete alternativa fare sul web è un lavoro continuativo è un lavoro che va strutturato ma è il lavoro che vi consentirà di essere sempre top of mind cioè i primi risultati nelle ricerche rispetto a un determinato settore su questo una parte molto importante fondamentale il sito e l'altro l'utilizzo che fate dei social ci tengo a dire che spesso sulle piccole e medie aziende alcuni si sentono come dire marginali rispetto al gioco soprattutto le piccole e medie aziende che lavorano in b2b non è vero purtroppo il covid ci ha costretto a prendere atto che alcuni strumenti tradizionali quali la partecipazione alle eventi ai fiere quella raccolta di contatti non poteva essere fatta ma poteva essere strutturata tramite il digitale le aziende che lo avevano già fatto in maniera diciamo con una visione un po più long term sono riuscite a sopravvivere le altre hanno avuto difficoltà ma non si torna indietro rispetto a quello certo che riapriano gli eventi certo che ci saranno le fiere certo che si tornerà quel contatto umano ma non si tornerà indietro dalla ricerca che io mi aspetto mi dia dei risultati completi completi sul web da qui c'è la chiusura sulla decisione del cliente dunque generalmente quando si parla di vendite e soprattutto di vendite nel b2b si parla non di cliente finale ma di un buyer quindi è molto importante darsi come obiettivo la consapevolezza di chi è il buyer o il cliente a cui mi sto rivolgendo quindi se la mia azienda deve emergere se già ho un posizionamento molto alto devo avere la estrema chiarezza di qual è la tipologia di persona che ha quel ruolo in quell'azienda chi sono i suoi buyer chi sono i direttori degli acquisti chi sono gli imprenditori se parlo con imprenditori o responsabili di produzione e profilare i miei canali di comunicazione parlando alla persona e non solo al ruolo questa è una cosa molto importante quando si utilizzano i social quindi prima di tutto mettete la persona che è il responsabile dell'azione di acquisto e di diciamo ricerca della soluzione al centro della vostra pianificazione digitale al centro della vostra comunicazione sul vostro sito e andate a comunicare su di lui in maniera diciamo come se avesse davanti la persona e non il ruolo che cosa farà questo buyer identificherà il problema e le possibili soluzioni selezionerà e comprerà chiuderà all'acquisto sul web lasciatemi dire che a questo punto diventa quasi indifferente ci sono ovviamente la maggior parte dell'azienda che non può essere gestito sul web ma questo è un elemento a favore perché oggi il cliente è abituato ad avere prodotti anche disegnati sulle sue esigenze se un cliente B2B assolutamente una delle sue richieste sarà quello di poter contribuire allo sviluppo e all'adattamento di un determinato prodotto e servizio sulle sue esigenze quindi il punto è dopo aver identificato e dopo aver selezionato e dopo aver generato un lead e preso una decisione devo essere in grado di raccogliere le sue esigenze svilupparle ad adattarle sicuramente questa è una fase che io posso suggestire sul web come raccolta di informazione come raccolta di sviluppo diventa un tema chiaramente di gestione interna come azienda devo gestire i problemi l'esperienza a cui è stato ormai abituato un consumatore sicuramente non dai vostri mercati ma da altri mercati ha fatto mettere la barra in altissimo in termini di customer care il cliente si aspetta di essere gestito tutto in maniera digitale con la interazione più piccola possibile con una soluzione al massimo della performance che la vostra azienda possa offrire la gestione dei problemi è ciò che farà la differenza nella ripetizione dell'acquisto oggi tutti i settori di tutte le aziende di tutte le industrie si trovano a dover livellare il loro livello di customer care rispetto alla top performance del mercato parliamo di amazon parliamo di amazon parliamo di netflix sport e poco importa hanno dato una capacità di experience una capacità di risolvere dei problemi anche a danno di determinate marginalità su quale ormai il cliente si è settato e non importa se compra per sé o compra per la sua azienda si aspetta quel tipo di customer care una volta solo scusa maurizio concludo solo la palla del precedente molto velocemente dicendo che a questo punto utilizzerà il prodotto e subito dopo dovrà essere oggetto di chiaramente contatto oggi molto spesso le aziende si perdono nella fase successiva eh la gente sparisce diventa impossibile contattarlo ecco questo con il digitale deve essere assolutamente superato e automatizzato in modo che il cliente rimanga fedele anche come esperienza successiva vado velocemente sull'ultima slide eh sul digitale c'è una cosa che deve essere imposta alle vostre aziende dare degli obiettivi misurarli la cosa diciamo ehm che stravolge lo scenario dei costi nel digitale è il fatto che nel digitale bisogna spendere poco soprattutto nell'ambito della comunicazione misurare gli effetti e poi adattare il tiro fa parte di come si costruisce prima si investiva un budget di comunicazione in televisione in radio e stampa era un budget enormi e ci si faceva il segno della croce sperando che gettando una rete ci cadessero anche i clienti target il ragionamento sul digitale è l'opposto una volta che io mi sono strutturato con le miei diciamo properties aziendali devo investire piano e piano piano capire quali sono i clienti che tornano se sono quelli che volevano se genero lead e poi aumentare l'investimento devono essere molto chiari gli obiettivi e come li misurerò gli obiettivi possono essere di riconoscibilità della mia azienda del brand di fidelizzazione di cross selling di up selling ogni obiettivo si porta dietro dei ricavi ogni obiettivo di ricavi si porta dietro quanti clienti devo generare se io devo generare dieci clienti che mi portano cento ricavi probabilmente avrò bisogno di raccatturarne mille per catturarne mille probabilmente dovrò comunicare a diecimila e a quel punto si fa diciamo il budget di marketing ma si costruisce in maniera progressiva eh io mi fermo Maurizio credo che diciamo come introduzione grazie mille Daniela sei sei stata perfetta e spero che l'intervento sia apprezzato da tutti penso che siano stati toccati elementi del tutto distintivi e determinanti della capacità di un'azienda soprattutto medio piccola nell'andare a surfare questi nuovi canali digitali in in questo periodo eh direi che siamo pronti per i tre ospiti i tre business case di oggi eh faccio il solito rinnovo il solito invito fatto anche la volta scorsa nello stare eh all'interno dei dieci minuti per la presentazione di ognuno sarà mia cura avvisarvi alla alla mancanza degli ultimi due minuti per regolarvi al meglio sulle conclusioni cominciamo con Guido Lucarelli di B2X Guido mi senti sei collegato eh ti abbiamo sentito Maluccio riproviamo? Riproviamo adesso dovreste sentirmi abbastanza bene. Forte e chiaro. Perfetto. Dicendo la parola Guido vai guida nel primo caso d'uso d'oggi. Sarò nel preciso nei dieci minuti intanto buon pomeriggio a tutti eh B2X parte del gruppo ISED eh siamo in realtà nata eh dodici anni fa eh sviluppando soluzioni e canali di commercio elettronico sia per piccole imprese che per grandi multinazionali e siamo un nuovo partiti come poi tante aziende diciamo nell'e-commerce nel provare a risolvere la tematica le problematiche relative ai produttori quindi non tanto la parte di retail quanto ai produttori ragionando su come mettere insieme i produttori con l'ultimo punto della filiera ovvero i consumatori finali. Ehm il caso che che vi racconto brevemente oggi è quello di destination gusto. Allora eh questo è un progetto che è nato originariamente con Expo eh aveva un altro nome ehm sposato da banca intesa e aveva l'obiettivo di mettere in rete ehm un certo numero di produttori piccoli e medi anche non clienti banca quindi sostanzialmente era un progetto aperto inizialmente con la logica di dare visibilità sotto Expo. Eh il progetto poi ha avuto diverse evoluzioni perché come diciamo c'era un interesse a svilupparlo soprattutto da parte dei produttori e nel 2017 è stata lanciata questa piattaforma ehm eh proprietaria chiamata Destination Gusto che aveva e ha tuttora l'obiettivo di unire le migliori eccellenze italiane agroalimentari che non siano presenti in grande distribuzione quindi principalmente piccole e medie imprese poi nel corso degli anni ovviamente poi il modello si evolve e nell'ultimo anno con il covid si è avuto ulteriormente ma con alcuni punti centrali il primo fu eh rivolto alla parte alimentare eh alimentare e vini quindi andando a prendere una fetta di mercato che almeno fino a marzo duemila e venti era molto distrattata nel commercio elettronico perché prima della pandemia sicuramente in Italia quasi nessuno acquistava online salvo l'altro elemento era costruire un modello che fosse per i produttori sostenibile quindi non avesse sostanzialmente costi fissi e consentisse ai produttori di gestire tutta la filiera digitale quindi primo elemento prendendo un po' lo spunto da quello che è l'interessante intervento di Daniela eh di prima primo elemento è questo canale di commercio elettronico si va a inserire nella parte di decision cioè un utente che normalmente già ha in testa sta cercando determinate aree di prodotto nell'alimentare rispetto ad altri settori gli utenti tendono ad avere un bisogno generico è più difficile salvo sui vini che vadano a cercare il succo di frutta di un certo marchio vanno a cercare il succo di frutta vanno a cercare più la categoria quindi primo elemento secondo elemento importante come è cambiato il mercato in questi in questi anche ultimi 12 mesi prima si parlava di un canale commercio elettronico in questo caso il proprietario oggi si parla di hub di canali ovvero i produttori per essere online devono o dovrebbero avere visibilità su canali differenti che sono canali amazon che sono possono essere i canali marketplace più classici come anche retailer come anche canali proprietari come questo perché questo canale ha riveste per i produttori un'importanza strategica perché va in qualche modo a risolvere alcune tematiche tipiche del produttore italiano difficile capacità nel parlare al consumatore finale quindi il rapporto con il cliente che non è solo il customer service ma anche tutto ciò che riguarda la relazione per mantenere viva il rapporto con il cliente dopo l'acquisto in e-commerce ma in generale in e-commerce la regola aurea che si vende con la comunicazione e si rivende con il prodotto quindi vendi perché presenti bene un prodotto rivendi perché il tuo prodotto è buono e quindi il consumatore è fidelizzato. Aspetti centrali di questo modello perché all'interno diciamo i produttori lo utilizzano perché in tanto gestisce la filiera integrale dell'alimentare e questa è una particolarità perché ovviamente non fa alimentare magari è più difficile da comprendere ma tutto il settore soprattutto fresco e freschissimo ma ha una serie di normative anche sull'online che rendono la presentazione le schede prodotto tutto ciò che è il catalogo di una certa complessità faccio un esempio pratico e molti shop non sono compliant con questo dovresti fornire sull'online per l'alimentare la scadenza minima garantita dei prodotti a magazzino voi provate a cercare su Amazon è un dato che di fatto non esiste però da un punto di vista normativo dovrebbe essere presente quindi un'informazione che i produttori dovrebbero improntare quindi questo canale di fatto va a risolvere queste tematiche primo ti mette a disposizione un hub per vendere secondo ti mette a disposizione un hub che parla per tuo conto ai consumatori quindi fa un primo livello e gestisce con una serie di automazioni quindi meccanismi, algoritmi, meccanismi di intelligenza artificiale tutto ciò che sono le relazioni con il cliente per rendere il cliente il più possibile interessato all'acquisto e al riacquisto terzo elemento gestisce la parte più operation quindi la logistica che tu puoi produttore gestire in casa e quindi in quel caso l'hub si parla con i tuoi eventualmente sistemi e quando arriva un ordine dei tuoi prodotti sostanzialmente ti consente di spedirlo mandandoti il corriere in azienda piuttosto che si occupa anche della parte logistica ultimo punto, tracciabilità torno al discorso di prima elemento essenziale della parte alimentare è la parte tracciabilità di lotto e scadenza e quindi tutto ciò che riguarda la parte normativa ovviamente se uno va a estendere questo modello l'approccio vale sia per l'alimentare ma anche per altri settori perché è così fondamentale stimolare a prescindere se si utilizza un marketplace come questo che è abbastanza trasparente per il produttore piuttosto che marketplace come Amazon piuttosto che canali proprietari un punto centrale per i produttori è riuscire a comprendere che nella fase soprattutto di transizione digitale quindi sono abituato oggi a parlare solamente con i miei distributori non ho un rapporto con i consumatori e qui di fatto non so gestirlo fase zero fino alla fase voluta che dice io produttore sono in grado di parlare ai miei consumatori dovunque essi siano ci sono tanti elementi in mezzo e questi elementi sono centrali e lavorare su chiamiamole piattaforme intermedie consente anche ai produttori di avere una transizione digitale più semplice ad esempio all'interno di questo progetto abbiamo coinvolto circa un anno e mezzo fa Campagna Amica quindi il mondo di col diretti per informatizzare il mercato di Sant'Odoro a Roma perché anche lì vediamo la parte agricola come piccoli produttori a maggior ragione hanno questo tipo di temati ora visto che mi manca un minuto e mezzo così non vengo tacciato di ritardo chiudo con alcuni elementi fondamentali ho detto prima velocemente però un tema su cui ritorno si vende con la comunicazione si rivende con il prodotto allora quando parliamo di Made in Italy qualunque sia il prodotto il racconto è un elemento centrale che ci contraddistingue o ci dovrebbe contraddistingue il racconto è una però delle cose su cui siamo dovremmo essere più forti a livello internazionale ma in realtà non è così perché è così importante? perché se non riusciamo a raccontare bene e quindi investire sul racconto dei nostri prodotti verosimilmente nessuno ci troverà l'ultimo spunto dell'intervento precedente giustamente raccontava gli investimenti che si dovrebbero fare nella comunicazione dell'e-commerce sono investimenti graduali molto vero correttissimo il test and learn è un punto centrale del commercio elettronico ma con una possibilità importante i risultati arrivano nel medio periodo questo significa che se tu pianifichi di lavorare sul commercio elettronico c'è tanto test and learn sia che lavori con un marketplace con tanti market che sono un canale prioritario ma gli investimenti devi costruire nel tempo ed essere diluiti perché altrimenti il rischio che corre è che tu parti investi per 60 giorni non hai alcun risultato perché magari il modello va evoluto tanto testa poi ti fermi per tutto ciò che hai costruito e riconunci quindi la gradualità da un lato ma anche la costanza nel lavoro dall'altro sono fondamentali quindi chiudo solo con l'ultimo flash nel caso esempio di destination gusto si è fatto un grandissimo lavoro adesso se ne sta facendo un altro in due anni si ricomincia da capo proprio nel modello di presentazione del prodotto modello che poi viene cambiato o modificato quando tu lavori su un canale proprietario o lavori sugli altri marketplace in modo da adattarlo alle modalità con cui il consumatore di quel marketplace si aspetta di leggere l'informazione Amazon Quick and Dirty perché Amazon è un canale di ricavo secco questo è il tipo di canale più da racconto chiudo e vi ringrazio molto grazie mille Guido per essere stato nei tempi ma soprattutto per i contenuti e l'esperienza che ci hai portato siamo pronti per il prossimo caso adesso Wind3 con il ritrovato Francesco Barletta che ci presenta il loro caso d'uso lascio a te la parola a Francesco buonasera a tutti vorrei oggi raccontarvi un po' l'esperienza di Wind3 che opera sia in un contesto consumer che in un contesto business in particolare nel contesto business nel mondo delle piccole e medie imprese così anche nel mondo delle grandi corporate il problema che noi abbiamo cercato di affrontare è stato quello di dare ai nostri clienti la possibilità di utilizzare al meglio le tecnologie le piattaforme e i servizi digitali per poter da una parte esporsi sul mondo digitale quindi esporsi sul web quindi farsi trovare avendo già un sito web oppure ottimizzando un sito esistente avere la possibilità di esporre al meglio i propri prodotti quindi creando una relazione con il cliente di primo ordine quindi avere la possibilità di creare un catalogo di creare una vetrina ma soprattutto anche un marketplace quindi integrando anche altri prodotti di famiglie contigue al proprio business primario e ovviamente creare una serie di servizi a contorno che possano in qualche modo ottimizzare l'esperienza d'acquisto e l'esperienza d'uso dei clienti digitali dalla fase di ricerca alla fase di acquisto alla fase di supporto e con questa formula della integrazione di diversi prodotti di aziende leader nel contesto di riferimento mondiale ma anche di start-up innovativi presenti sul territorio italiano abbiamo costruito un pacchetto che insieme alla connettività offre la possibilità di fare queste cose in maniera ubiqua sempre dovunque ci si trovi il punto di partenza se pensiamo un po' al mercato dell'e-commerce nel particolare e ci dice che l'Italia cresce con due cifre un ritmo vertiginoso lo shopping index di Salesforce dell'ultimo trimestre del 2020 ci dice che in Italia la crescita è del 78% contro il 26% del trimestre dell'anno precedente quindi si cresce con un ritmo vertiginoso di tre volte anno su un anno tra l'altro l'Italia è quarta soltanto dopo il Canada l'Olanda l'Olanda il Canada e il Regno Unito quindi tre paesi che comunque sono già molto molto maturi nel mondo digitale il mercato dell'e-commerce vale nel 2020 in Italia circa 31 miliardi con 26 milioni di acquirenti digitali dei quali 20 milioni quindi circa un 70% abitudinari quindi una quota che cresce sempre di più sono i clienti occasionali che comunque scontrinano mediamente per ogni acquisto circa 70 euro nel periodo della pandemia quindi ci siamo chiesti come potevamo rafforzare questa proposizione per aiutare ancora di più le nostre aziende e clienti a rimanere solide ancorate sul mercato anzi addirittura a crescere in un mercato che oggettivamente stava crescendo rispetto al mercato offline quindi il mercato tradizionale del retail che comunque si stava contraendo per la crisi economica per la crisi sanitaria e sociale che avevamo vissuto quindi con la pandemia con questa formula quindi abbiamo creato una sorta di advisor una sorta di pacchetto in grado di poter gestire al meglio le esigenze dei nostri clienti ecco scorro un attimo la presentazione e vado subito ecco a quelle che sono i selling point quindi la value proposition della nostra offerta che potesse dare ai nostri clienti la possibilità di utilizzare il meglio delle tecnologie ma soprattutto il meglio dell'integrazione in termini di investimenti in pubblicità perché evidentemente se io ho un sito web devo farmi trovare sia nel mondo fisso quindi nel mondo tradizionale dei browser da pc sia nel mondo mobile e quindi aumentare il ranking quindi aumentare anche la possibilità che la mia marca possa essere vista quindi acceduta prima delle altre e quindi nel fare questo abbiamo creato un pacchetto che possa dare ai nostri clienti la possibilità con pochi investimenti gli investimenti in marketing digitale sono di uno o due ordini di grandezza inferiori alle tradizionali quote che si pagano per l'ATL e il BTL la possibilità di essere riconosciuti e ovviamente attraverso una bella vetrina attraverso un buon catalogo di poter creare una relazione col cliente anche per quei clienti che di solito si chiamano showroomer hanno l'attitudine a confrontare i prezzi i prodotti online con quelli offline quindi magari vedono sul web vanno sul negozio quindi si rendono conto della qualità e poi acquistano su web o viceversa di poter comunque convertire sia nel negozio fisico sia nel negozio digitale e questa seconda possibilità ovviamente molto importante perché offre alle nostre aziende clienti quindi offre alle marchi la possibilità di poter diversificare il catalogo non abbiamo parlato di un aspetto molto molto importante ma che comunque sta dietro a qualunque tool di esposizione digitale che sono i dati che raccoglie e gli analytics che produce in una forma in cui li aggrega attraverso delle dashboard tutte le aziende che hanno la possibilità di confrontare le attitudini di navigazione quindi di acquisto sia nel mondo retail tradizionale quindi nel negozio fisico che nel negozio online hanno la possibilità di capire le dinamiche di acquisto hanno la possibilità di capire il dwelling time quanto tempo i clienti perdono spendono all'interno dell'attraversamento delle singole pagine e quindi i loro i loro costumi le loro abitudini ma anche le loro necessità e attraverso un'analisi dei dati che vengono prodotti sia sui propri siti ma anche confrontando questi dati con siti analoghi è possibile chiaramente estrapolare una serie di informazioni che in modo predittivo ci aiutano a migliorare la nostra offerta quindi ci aiutano anche a ottimizzare il rapporto col cliente ovviamente questi tool una volta che si è creato un buon prodotto con una buona esposizione sul web si è fatta campagna digitale quindi marketing automation e ovviamente c'è stata anche la possibilità di comprendere esposti il comportamento dei clienti se poi riusciamo anche a integrare e i lavoratori hanno questa disponibilità le strategie e i prodotti di supporto online quindi parliamo di tool di customer care su cloud è possibile dare al cliente dovunque si trovi nel mondo e questo è un altro aspetto importante perché noi amplifichiamo enormemente lo scope la portata delle vendite i nostri negozi fisicamente ubicati in un luogo ben preciso hanno l'esposizione in tutto il mondo in qualunque ora del giorno in qualunque giorno una settimana in questo contesto il supporto al cliente fatto magari nella lingua del cliente e con l'automazione di diversi tool fa comprendere al cliente che negozi esattamente dietro casa anche se magari lontano migliaia di chilometri ovviamente l'integrazione con una logistica integrata e avanzata che offre la possibilità di ridurre i tempi di attraversamento abbattere i costi di magazzino ovviamente migliorare il working capital di chi opera in questo contesto fanno la differenza e chiudono il cerchio quindi l'operatore si pone all'interno di questo ecosistema digitale grazie anche alla sua consapevolezza perché gestiamo i rapporti con i nostri clienti da decenni sia sui negozi fisici che sul mondo online la possibilità di offrire ai nostri clienti delle soluzioni integrate e qualificate dalle migliori aziende presenti sul mercato di una creazione di un sito web e eventualmente di un sito di commerce nel giro di poche ore parliamo di 24 ore 48 ore con la creazione di un catalog che è in grado di esporre in qualunque lingua e a qualunque cliente nel mondo prodotti con ripeto i servizi accessori sia di logistica che sia di supporto questo è un po' il journey è un po' la logica del perché abbiamo oggettivamente costruito questi prodotti con la nostra connettività di perché l'abbiamo fatto all'interno della pandemia abbiamo maggiormente focalizzato questo interesse perché abbiamo ritenuto opportuno valorizzare al massimo uno dei pochi aspetti che purtroppo il lockdown ci ha garantito che è quello di poter migliorare attraverso il digitale una serie di comportamenti e una serie di processi che fino allora erano avvenuti soltanto nel mondo fisico ultimo leggevo pochi giorni fa all'interno di una mostra alla galleria d'arte moderna una frase molto bella che dice che le radici devono avere fiducia nei fiori e nei frutti questo vuol dire che noi oggi dobbiamo investire seminare per poter creare quelle logiche relazioni nel mondo digitale e integrazioni nel mondo fisico che migliorino nel caso particolare l'esperienza d'acquisto ma diciamo nel modo più generale la relazione delle persone delle aziende con la tecnologia perché sia veramente utile amica e aiuti a differenziarsi a essere più efficienti sul mercato francesco grazie mille per l'intervento e mi piace tantissimo la metafora che hai usato alla fine veramente evocativa direi siamo pronti per terzo e ultimo eh use case di team questa volta maria vittoria crispino è collegata mi senti ecco tolgo il muto magari è meglio buonasera a tutti ecco ti sentiamo forse bene parola a te di che cosa ci parlate oggi oggi vi racconteremo vi racconterò un use case specifico di un nostro cliente che nell'ultimo periodo ha deciso di attuare una il passaggio da un customer care di tipo tradizionale a un customer care assistito da un sistema di intelligenza artificiale ossia un assistente virtuale di che cosa stiamo parlando che cos'è un assistente virtuale un assistente virtuale è sostanzialmente un oggetto che sa fare tre cose sa individuare l'argomento che è stato espresso in linguaggio naturale dell'utente sa comprendere l'esigenza del cliente e infine deve fornire una risposta possibilmente coerente e possibilmente che sia esattamente quella che il cliente sta aspettando eventualmente il contatto del cliente può essere trasferito all'operatore fisico in caso di necessità infatti parliamo sempre di un approccio artificial intelligence human hybrid approach vediamo vi faccio vedere in questa slide l'andamento del mercato dell'intelligenza artificiale nel corso tra il 2019 e il 2020 secondo uno studio dell'osservatorio sulla visita dell'innovation del Politecnico di Milano nel 2020 il mercato dell'intelligenza artificiale in Italia ha raggiunto 300 milioni di euro ossia un trend di aumento del 15% rispetto al 2019 e nel 2021 si stanno verificando comunque il trend continua ad essere crescente tra i progetti che sono tra gli ambiti che sono interessati dalla tematica dell'intelligenza artificiale l'ambito relativo ai chatbot assistenti virtuali è cresciuto nel 2020 del più 28% rispetto al 2019 assorbendo circa il 10% degli investimenti totali del mercato dell'intelligenza artificiale nel 2021 stiamo sperimentando comunque una crescita sebbene ancora l'anno non sia finito come insomma nel primo semestre comunque la crescita è sostanziosa quali sono le declinazioni dell'assistente virtuale l'assistente virtuale è che sia esso chatbot o voicebot a seconda che il canale di comunicazione sia puramente testuale o sia un canale vocale può essere identificato in diverse può essere declinato in diverse tipologie un esempio piuttosto basico è il bot che risponde alle domande più frequenti sa quindi riconoscere l'esigenza dell'utente la sa ricondurre a un set predefinito di risposte di domande più frequenti e fornisce quindi il supporto all'utente non è però in grado di gestire una conversazione che sia che possa essere articolata per contesti che invece possono fare il chatbot conversazionale o il voice conversazionale il voice conversazionale ovviamente sfruttando il canale vocale dovrà avere a disposizione dei sistemi di riconoscimento vocale che sono gli automatic speech recognition e di produzione del parlato in maniera da poter esprimere la risposta attesa dall'utente la valutazione di un assistente virtuale viene fatto con diverse prospettive quella della user experience che è legata all'usabilità alla facilità di utilizzo e all'immediatezza di utilizzo del mezzo alle performance al grado di empatia che l'assistente virtuale suscita o diciamo o mostra o dimostra verso il cliente finale e dalla soddisfazione dell'utente stesso un'altra metrica è quella del recupero delle informazioni in base a caratteristiche di accuratezza accessibilità e efficienza una metrica linguistica che è legata alla naturalezza del linguaggio secondo le massime di Grais ad esempio che sono delle misure delle indicazioni legate alla conversazione naturale all'accettabilità grammaticale dal punto di vista tecnologico il grado di umanità dell'assistente e dal punto di vista del business ovviamente l'efficacia in relazione ai costi di investimento vediamo proprio il caso specifico lo use case specifico che di cui volevo raccontarvi si tratta di una realtà industriale con una customer base di circa 300.000 utenti e un servizio di customer service di circa 30 persone non è una grande realtà ma mi piace raccontarvela proprio perché si tratta di una realtà media situata nel sud Italia quindi lontana da contesti diciamo tecnologicamente avanzati lontana intendo in termini di distanza fisica nel corso del 2020 per i motivi che tutti possiamo immaginare conosciamo bene la media delle richieste al customer care ha superato circa di 20-30 volte i numeri di picco dei periodi precedenti con richieste spesso concentrate nel tempo e in giornate specifiche è stata fatta un'attività di analisi si è riconosciuto che in effetti le richieste possono essere catalogate secondo un insieme determinato e specifico secondo un set di contesti argomenti dignitosamente numeroso ma comunque numerabile e quindi il cliente ha deciso di si è lasciato diciamo convincere a intraprendere questa avventura dell'assistente virtuale la soluzione che è stata oddio già pensavo di essere più sintetica speravo di essere più sintetica vado la soluzione che è stata che ha attualmente il cliente in uso è una soluzione multichannel in cui è stato inserito quindi il layer dell'assistente virtuale le caratteristiche diciamo che sono state individuate come vincenti assistenti virtuale non erano tanto legate alla disponibilità 24 24 7 giorni su 7 ma soprattutto al fatto che l'assistente virtuale può gestire più richieste in multitasking con tempi di risposta estremamente bassi o ragionevolmente bassi e riduce il carico dell'operatore quindi l'operatore si può concentrare su un'assistenza di tipo specializzato e gestire magari situazioni di richiesta maggiormente più specifica magari vado avanti sulla soluzione sulla fase di creazione sulla divisione del dominio sulla presentazione di rischio conversazionale il bot è importante dirlo non impara da solo quindi alcune sono state riconvertite in qualche modo in allestratori del bot vedremo poi che è un impatto che è stato fatto proprio sui benefici è stata migliorata sicuramente la città di assistenza perché sono stati superati i limiti temporali i limiti di risorse utilizzabili il bot è riuscito sta riuscendo a gestire le richieste in maniera in tempi ragionevoli e senza diciamo i lunghi tempi di attesa dei casi precedenti il livello qualitativo viene consolidato perché il bot risponde a domande analoghe in maniera analoga e quindi è svincolato da oscillazioni di efficienza che possono si può poi attuare un approccio proattivo verso il cliente attraverso dei processi di outbound ad esempio è in previsione un allargamento della soluzione per intercettare la clientela che che passa dal sito web che consulta il sito web e apprezzata verso un segmento di clientela che è un segmento che è stato considerato servito il modo di lavorare dell'azienda quindi è convertito verso un'attività specialista verso la formazione e assistenza del bot che come dicevo prima appunto non impara da solo per cui bisognerà fare in modo che possa ampliare i contesti di comprensione e specializzarsi nel fornire il più possibile risposte corrette concrete e soprattutto che incontrino la soddisfazione del cliente o giusto spero di non essere andata troppo grazie grazie no Maria Vittoria tutto a posto ok ti abbiamo perso un attimino nella qualità dell'audio qualche secondo fa ma credo che comunque il concetto sia passato integro siamo al momento della presentazione del nostro technology partner di oggi nella azienda di FM abbiamo Jean-François Cabi che ci racconta la customer experience nell'era della trasformazione digitale per cui parola a te Jean-François e il solito watch out sui dieci minuti grazie grazie e anche complimenti per la pronuncia visto che allora mi presento io sono Jean-François Cabi direttore commerciale di FM InfoMast parleremo di customer experience nell'era della digital transformation con un focus specifico sulla parte di intelligenza artificiale come già la collega precedente ha potuto accennare velocemente mi presenterò l'azienda poi andremo avanti con quello che è successo nel 2020 parleremo di omnicanalità del ruolo del contact center all'interno della customer experience per finire proprio su un caso concreto di introduzione dell'intelligenza artificiale IFM è un'azienda che opera da 25 anni nell'ambito dei contact center abbiamo circa 200 clienti un po' in tutti i contesti e ovviamente è partita da una soluzione CTI per poi evolvere verso una soluzione omnicanale e più recentemente nel 2021 siamo stati acquisiti dal gruppo CESA è la holding a cui fanno capo magari per chi è del settore sicuramente li conosce meglio Computer Gross e Val Group quindi è una realtà che sono circa 3500 dipendenti per 2 miliardi di fatturato cos'è cambiato nel 2020 chiaramente sono stati accelerati i processi di digital transformation in particolare c'è stata una rapida diciamo introduzione di nuovi canali e tecnologici e strumenti digitali le videochiamate sono diventate come dire comuni a tutti noi se non altro anche per lo smart working che è passato da circa 570 mila utilizzatori prima della pandemia a circa 10 volte tanto nel corso dell'anno e ovviamente questo ha impattato su tutti i contesti non solo privato ma anche nell'ambito della pubblica amministrazione questo chiaramente ha avuto un impatto sulle nostre attività noi siamo stati chiamati a remotizzare circa 10.000 postazioni dei contact center ai nostri clienti in poco meno di due mesi chiaramente basandoci su soluzioni full web piuttosto che cloud e in particolare abbiamo saputo anche gestire dei picchi importanti con le nostre soluzioni per per use che sono fondamentalmente licenze illimitate ma che possono praticamente adattarsi al contesto quindi evolvere a seconda dei requisiti del cliente con pochissimo preavviso quindi anche implementando velocemente degli incrementi non solo delle licenze ma anche per quel che riguarda le capacità computazionali piuttosto che anche le linee telefoniche per esempio verso l'omnicanalità lo dicevamo prima dalla pandemia c'è stata un'accelerazione il concetto di omnicanalità ovviamente è quello di garantire un customer journey omogeneo attraverso tutti i touchpunt abbiamo fatto nel corso del 2020 una piccola survey e abbiamo ci siamo resi conto che comunque l'adozione dei canali digitali era ancora piuttosto marginale come potete vedere dai grafici sottostanti ovviamente il grosso cioè tutti ovviamente hanno adottato i canali tradizionali però gli altri diciamo sia la parte di social network piuttosto che whatsapp instant messaging eccetera sono ancora poco diffusi e come dicevo questo si riflette nel fatto che solo il 18% in effetti delle interazioni venivano svolte su canali che noi definiamo non tradizionali quindi su quelli che rappresentano comunque la parte essenziale telefono mail piuttosto che sms chiaramente questo evolverà già nel 2020 il 64% dei clienti ha approvato un nuovo canale cosa che prima ovviamente magari non non era chiamato a utilizzare quindi whatsapp per esempio facebook chiaramente ecco la customer experience è diventato il campo di battaglia delle aziende in quanto l'89% di S ritengono che sia veramente un elemento strategico per differenziarsi tant'è che è diventato proprio un elemento come dire portante di una politica atta a personalizzare e differenziarsi rispetto alla concorrenza con l'obiettivo ovviamente di fidelizzazione e di soddisfazione del cliente e di fatti abbiamo una risultanza che l'84% delle aziende che hanno migliorato quindi hanno investito nella customer experience per migliorare il rapporto con i propri clienti ha registrato di fatti un aumento dei ricavi ecco in tutto questo il role del contact center è piuttosto centrale in quanto è un elemento comunque di contatto significativo con i clienti è un elemento abilitante per una buona customer experience e oltretutto un elemento chiave per ottenere un vantaggio competitivo questo però deve essere in grado di garantire un accesso semplice tempi di risposta rapidi e riscontri esostivi nella nostra server abbiamo rilevato che effettivamente 90% delle aziende intervistate avevano già un contact center solo il 10% non era dotato di questo tipo di strumento e effettivamente poi se andiamo a vedere anche l'adozione dell'intelligenza artificiale vedremo dopo che è ancora piuttosto marginale in quanto comunque è un elemento abilitante a migliorare sempre il vantaggio competitivo quindi noi vediamo proprio l'intelligenza artificiale come uno strumento per incrementare la relazione col cliente per da un lato sfruttando quello che possiamo definire natural language processing a supporto come la tecnologia abilitante ma poi anche big data quindi tutto quello che riguarda l'analisi di quelle che sono le interazioni con i clienti per definire il messaggio giusto per le persone giuste quindi andare proprio a targetizzare se così si può dire per cercare di avere un vantaggio competitivo e ovviamente l'intelligenza artificiale va nel senso degli elementi che citavamo prima come essenziali per un buon contact center quindi l'immediatezza nei riscontri in quanto comunque ovviamente certi riscontri si possono dare senza l'ausilio degli operatori che ovviamente possono essere dedicati a operazioni più complesse può essere di supporto anche agli operatori stessi per la gestione delle problematiche più ricorrenti ovviamente da un accesso semplificato alle informazioni EH24 e attraverso gli speech analytics quindi parlando di big data speech analytics e sentiment analysis siamo in grado di fornire delle risposte sempre più personalizzate aumentare la customer satisfaction quindi dicevamo prima l'adozione ancora piuttosto marginale nella nostra server abbiamo riscontrato che solo il 27% delle aziende aveva adottato questo tipo di tecnologia e essenzialmente come possiamo vedere dal grafico sulla destra legata al mondo dei chatbot e sappiamo che molti chatbot sono piuttosto embrionali generalmente si accontentano di fornire l'orario di apertura piuttosto che cose di questo genere invece se andiamo a vedere un caso concreto di applicazione dell'intelligenza artificiale in abito vocale ma anche in abito chatbot lo vedremo dopo possiamo parlare di questo caso di successo che è Itas che è un nostro cliente che aveva un grossissimo problema in quanto sull'assistenza sinistri il 50% delle richiamate non venivano gestite quindi c'era un altissima percentuale di richiamate quindi un grossissimo problema per chi gestiva il customer care quindi volendo si potrebbe pensare che l'unica possibilità fosse quella di raddoppiare il numero di operatori in realtà abbiamo implementato con il cliente un voice bot che ha consentito ovviamente di gestire il buon numero di queste chiamate in automatico ovviamente questo è stato il progetto ha previsto una fase in cui abbiamo definito la knowledge base e gli intenti abbiamo ridisegnato il processo di interazione quindi l'Ivware e abbiamo integrato ovviamente le tecnologie di cui parlavamo prima quindi motore di natural language processing e tecnologie di speech to text e text to speech questo questo ha portato a raggiungere in meno di tre mesi il 50% delle chiamate interamente gestite dal voice bot e il 90% delle chiamate prese in carico con successo quindi anche attraverso gli operatori e l'estensione chiaramente dell'oraio del servizio il progetto poi si è esteso alla componente chat quindi abbiamo implementato ovviamente con alcuni accorgimenti di tipo simantico perché ovviamente quando si parla tramite voce si utilizza dimmi piuttosto che scrivimi però diciamo che fondamentalmente la tecnologia è la stessa e la knowledge base identica abbiamo implementato anche il mail bot quindi per gestire in automatico buona parte delle interazioni mail e ovviamente stiamo definendo anche altre estensioni per esempio per la gestione dei soci che hanno quindi io ovviamente essendo commerciale non posso fare a meno di fare un po' di pubblicità per l'azienda quindi praticamente in due parole perché scegliere un partner come IFM semplicemente perché abbiamo la professionalità e le soluzioni tecnologiche a supporto della digital transformation e piena proprietà intellettuale del software questo chiaramente ci dà la possibilità di essere molto flessibili di poter personalizzare le nostre soluzioni e di integrarci ovviamente con le soluzioni di mercato quindi CRM quali Salesforce o quasi Dynamics ma anche soluzioni custom del cliente questo garantisce una grande velocità di implementazione abbiamo la capacità di system integration e ovviamente avendo una filiera corta riusciamo anche a fornire assistenza in presa diretta io vi ringrazio per l'attenzione e se ovviamente avete qualche domanda sono a disposizione grazie mille grazie mille da fare diversi relatori dubbi perplessità curiosità qualsiasi cosa che dice la nostra sala sentitevi liberi di porre qualsiasi domanda anche considerazione grazie mille sembrerebbe che il silenzio ci dice non esserci ulteriori ulteriori domande Lorenza lascio a te la chiusura e i saluti finali per questa terza edizione sì io insomma sicuramente ringraziamo tutti i colleghi che si sono resi disponibili per illustrarci questi interessanti use case o business case che dir si voglia perché lo scopo anche di questi appuntamenti è proprio quello di far capire che esistono delle soluzioni che sono anche facilmente implementabili esistono questo è un momento anche abbastanza favorevole per le PMI di implementare la trasformazione digitale in quanto esistono delle fonti di finanziamento esiste il supporto dell'associazione per aiutarli anche per aiutarvi anche a realizzare questo tipo di investimenti perché parliamoci chiaro abbiamo visto che dalla pandemia non si tornerà più indietro quindi tutto quello che è necessario per è stato necessario per digitalizzare la propria impresa per continuare a fare impresa sarà tanto più necessario anche in futuro questi primi tre appuntamenti sono stati credo e spero molto molto interessanti a fornire una panoramica su questi primi tre vertical aziendali vi ricordiamo che è tutto caricato sul nostro sito web quindi per ogni appuntamento è stato fatto un follow up dove troverete tutta la documentazione quindi sia le registrazioni di questi incontri sia le presentazioni anche di Lewis Business School e dei technology partner che sono state effettuate quindi noi rimaniamo senz'altro a vostra disposizione e sicuramente ci rivedremo diciamo dopo la pausa estiva perché abbiamo in programma degli altri appuntamenti proprio per per continuare diciamo quella che è la la suggerire un po' la trasformazione digitale in altri settori aziendali continueremo con il marketing abbiamo anche una parte dedicata alla logistica e una parte più di processo dedicata al maintenance quindi grazie per averci ascoltato in questi in questi incontri e se non dovessimo vederci vi auguro comunque anche una buona pausa estiva grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti